E dunque dunque dunque, manco il tempo di andare in vacanza un pochettino, di farsi un agosto un po' più passivo Ho uscito solo un video, ho fatto uscire solo... ho uscito letteralmente un solo video su Tombi Che nessuno si è cagato di pezza, che esce, manco il tempo di fare tutta sta roba Che esce un nuovo gioco di Valve, dell'azienda che ha creato Steam Ed è niente po' po' de meno che un MOBA, da ex giocatore di LOL, quale sono? Ecco, non ho potuto fare a meno di provarlo Ma in Deadlock si può entrare in un solo modo, essendo invitati O dai developer, in questo caso Valve, o da chi c'è già dentro Perché parliamo, come vedete là sopra, di un early development Ho tartassato gente sulla community italiana di Deadlock Sul Discord della community italiana di Deadlock Mi sono fatto invitare, ed eccomi qua Volevo farvi un video su questo gioco perché mi è piaciuto, mi ha divertito Ma non sono un pro player, non sono esattamente ciò che si dice pro player Quindi mi sono detto, facciamo una partita Gli faccio vedere un po' tutte le varie cose che ci sono all'interno del gioco E le parliamo insieme Le voglio sperimentare insieme a Vince Sperimentare, o me lo conosco, il gioco ha fatto già un 3-4 partite Però appunto voglio farvi vedere quello che è Deadlock Perché è carino, perché è troppo, troppo, troppo fatto bene Per essere unirli Questi, come potete vedere, sono già tutti gli eroi Parliamo di un MOBA misto a un hero shooter Quindi parliamo di, che ne so, di un Overwatch misto ad un LOL o a un Dota E per essere unirli development ha già tutta sta roba Ha già tutti questi personaggi Personaggi che sono, come vedete, ben caratterizzati Con un set di abilità specifico Con delle statistiche ben segnate Ecco qua le vedete al lato E ovviamente con delle build predefinite Cioè predefinite con delle build, diciamo, consigliate da poter fare Per poter ottimizzare l'eroe, in questo caso, al 100% Lui esteticamente è bellissimo Tra l'altro la cosa interessante Una cosa molto interessante riguardo alle build Ve la farò vedere in gioco Quindi, io direi, famosa una partita Un altro selezionato gioca Dobbiamo selezionare un tot di champion Champion eroi, quello che è Che ci piacerebbe utilizzare Noi dropperemo, cioè utilizzeremo Sempre uno di quelli selezionati Lei ha la deselezione che fa cagare L'ho provata, non mi piace Cioè, a me non mi è piaciuto Lui bellissimo, ragazzi Lui è fighissimo Entriamo nella Queue E adesso che la Q è partita Dobbiamo semplicemente aspettare L'attesa non è lunghissima Come potete vedere Il che è strano Per essere un Irly Development C'è già tanta gente che lo sta giocando Cosa abbiamo... Ah, proprio lui Perfetto, bellissimo Allora, se noi facciamo Alt Left Alt in questo caso Cioè l'Alt di sinistra Possiamo già iniziare a sbloccare Una delle tre abilità Perché poi la 4 è l'Altima La sblocchiamo più avanti Ma possiamo sbloccare una delle tre Oltretutto possiamo leggere Insomma, quello che ogni abilità fa Ora, lui è molto interessante Perché fa un bel, bel, bel Stun con lancio in aria Quindi io direi Non lo seleziono per prima Perché è da concatenare A un'altra roba Io direi di selezionare Prima il Quantum Entanglement Che praticamente ci fa sparire E riapparire in un altro punto E con l'arma carica Tra l'altro La cosa particolare È in realtà molto simile a LOL È che con determinati punti Questi piccoli pulmini Che abbiamo qui al lato Che collezioniamo Durante la partita Noi possiamo Potenziare Di tre livelli Insomma Le abilità Tutte le abilità Possiamo potenziarle tutte Ovviamente con Le medesime modalità Se andiamo invece Nello Shop Qui arriva Secondo me La genialata Perché Un po' come su Dota In realtà come si accade già su Dota Ma hanno integrato Le build Dei fan Le build Dei altri Giocatori Questo su LOL Accade Già di base Però devi andare su siti esterni Qui invece È proprio in gioco Possiamo vedere che Gun Gigio Dynamo È una build pubblica Ha 91.000 like Noi andiamo a vedere La clicchiamo E ci dice Esattamente Cosa Dobbiamo Comprare Ovviamente Questa roba qua È fatta Da Un altro giocatore Noi abbiamo già sbagliato Perché l'ability point La prima dovevamo sbloccare La prima Ma vabbè L'abbiamo sbloccata La seconda Non fa niente Però io direi di selezionare questa Ci mettiamo il favorite Così almeno ce la ricordiamo E andiamo Già alle prime cose Allora L'ambientazione come vedete È bella Steampunk Strana Retro futuro Mi piace un casino Perché Poi tutti i personaggi Sono Ben allineati A questo design Generale Quando iniziamo Veniamo catapultati Su questa rail Insomma Che ci porta La nostra lane Possiamo andare un po' ovunque In realtà Ma lui ce ne dà una Di base Attenzione Quello è un nemico E questa è la nostra torre La torre Non si attiva E non può essere colpita Se i nostri minion Non si avvicinano Di un tot Quindi non è che possiamo Metterci da lontano E cecchinare La torre nemica O cecchinare Il nexus nemico No Dobbiamo avvicinare I nostri minion Dobbiamo fare in modo Che i nostri minion Si avvicinino Di almeno un tot E io non riesco A parlare E sparare Contemporaneamente La cosa particolare Che ho capito Ma che non ho mai fatto E che pare che Lo Possiamo negare Quanto pare possiamo negare I minion Al nemico Perché negare i minion Al nemico Ammazzandoli da noi Beh Perché Non facciamo Guadagnare soldi Al nemico Quindi possiamo Attenzione Possiamo Giustamente Metterli in difficoltà E fargli Buildare Meno Fargli buildare Meno Il personaggio Abbiamo anche attacchi Mili come avete visto E da quello che ho capito Ovviamente ogni personaggio Ogni eroe Ha dalla sua Set di abilità E di armi Differenti Quindi Le possibilità Variano a seconda Del personaggio Abbiamo guadagnato Un livello Quindi sblocchiamo La prima abilità Allora Noi ancora non abbiamo utilizzato L'abilità In realtà La utilizziamo adesso Questa è quella di teleport Con ricarica Questo è Quello che mi piace di più È lo stun La nostra amica Si è salvata Per pochissimo Quindi già iniziamo A vedere Le prime cose Ecco qui si sono avvicinate Un po' troppo I minion E la nostra torre Si è attivata Era colpibile Quindi abbiamo subito Qualche danno La peggio Non la peggio Mannaya Qui ragazzi Il gioco È anche Non solo Sul saper buildare Ed utilizzare Insomma Il proprio personaggio Correttamente Ma Non è solo Di abilità In quanto siamo morti Perché non posso Parlare Nel frattempo Che Magari Ed evitare Ma appunto L'abilità Del giocatore Sta anche Anche E soprattutto Nel saper utilizzare Gli environment Nel saper utilizzare La mappa Perché è verticale Ed è estremamente Verticale Ci sono le atture Ci sono i I sottopassaggi I vicoletti Anche insomma Per preparare Dei veri e propri Aguati Al nemico E poteri La partita Ora La cosa più interessante Un'altra cosa Interessante Di questo gioco È che lo shop È raggiungibile Da qui Tranquillo proprio Quindi non è che Dobbiamo andare Per forza De cose Alla base Per poter Comprare Oggetti No no Possiamo farlo Anche da qui Ah ci sono alcuni Minion che curano E alcuni Minion Che sostanzialmente Hittano I minion che curano Insomma Li vedete Lasciano lo scettrino In mano Io sto rimorendo Madonna Fa danno Porco Qui giù Vedete Quanti slot Abbiamo Per ogni sezione E poi ci sono gli oggetti attivi Questi qua Nella barra Di fianco Alle abilità Tutto Tutto Concorre A creare La build Per il nostro personaggio Questo qua Ho sperimentato E un pochettino Più tank Di altri Ma in questo caso Specifico Stiamo Sugando A bestia Perché evidentemente L'altro giocatore Sa utilizzare Quel personaggio Io no Questo qua L'ho utilizzato Solo una partita E tra l'altro Ho perso Il danno Non c'è In realtà Il mio danno C'è molto più il suo Che il mio E qui ragazzi Anche ho lavoro Molto di mira Non possiamo Negare Che Serva anche Un pelo di mira Per giocare A questo gioco Possiamo Sbloccare La terza abilità Ecco Se posso Oh no Ci hanno distrutto la torre Se posso Dire la mia La posizione Delle abilità E i tasti Sono un po' Scomodini Però appunto Questa è una roba Che si può settare Dalle impostazioni Quindi non è Necessariamente Ecco Ah tra l'altro Sto notando Adesso una cosa Ci dice che la prossima abilità Diciamo Suggerita Nella build Che abbiamo selezionato E la terza Questa è una cosa Molto figa Anche perché ragazzi Dai Non fate i fenomeni Anche su LOL Guardate le build Su PGG Insomma Qua almeno Ce l'avete All'interno Del Del gioco Allora la 3 E questa Cura L'abbiamo già usata Un paio di volte Non ve l'ho detto La uso E lo dico Adesso Non solo cura noi Ma cura anche I nostri alleati Sono invisibile La pio Stavolta la pio Allora Non faccio molto danno Questo è molto grave Ah ecco come si nega Ok Ok Esce l'anima Dal corpo del Minion E se gli spariamo Gli neghiamo La kill Possiamo sbloccare La nostra ultimate Che non mi piace Tantissimo in realtà Però dai Ci sta Ah possiamo anche Confermare la kill Sparando all'anima Nel caso In cui Siamo noi Aie Ecco Non guasterebbe Avere un amico Che mi dà una mano Però Chi sono io Per dirlo Cioè Madonna Che danno Che mi ha fatto Quella cosa Ragazzi Ecco Mi ha ultato Ah Abbiamo della stamina Quindi non è che Non c'è corsa Ma il roll E quindi l'escape Lo possiamo utilizzare Un tot di volte Così come il salto Salto ed escape Hanno la stessa stamina Ah ma non ve l'ho detto Le lane su 4 Insomma Raga È tutto user friendly Iniziare a giocare A deadlock Oggi lo trovo Più Facile Che iniziare A giocare A A League of Legends Dove c'è stato un sacco De cose da tenere conto C'è già un sacco Di personaggi L'ultimo l'ho visto ieri Tra l'altro Si chiama Aurora Non l'avevo mai visto Nella mia vita Non sapevo neanche Se stesse uscendo Un nuovo eroe Però dai Ci sta Noi Noi Perché siamo Faurbi Possiamo andare avanti E fare una bella cosa Splittarci E cercare di buttare giù Questa lane Dando una mano Ai nostri amici Passivamente Ah ovviamente C'è una Giungla Tra virgolette Quindi un qualcosa Che noi possiamo fare Per guadagnare Crediti extra O exp extra Questa è una Di quelle cose lì Noi prendiamo l'urna E la dobbiamo portare La vedete Cioè Nella mappa C'è quel quadratino verde Se noi prendiamo Quest'urna E la portiamo In quella base Sostanzialmente Noi possiamo Guadagnare Crediti extra Ma questo È una sorta di Baron Meglio evitare Di andarci Ovviamente E dobbiamo Appunto Dobbiamo stare attenti A non essere ammazzati E questo È un problema Ops Volevo premere il 3 Ho premuto Il 4 Sì No Non esattamente La furbata Anche perché Lei adesso all'urna La posiziona E la consegna Ed io Mi sono fatto fregà Così Il Nexus Tra le altre cose Ha due fasi Ve lo dico Anche se lo vedrete Immagino a breve Ma non so se lo vedrete In diretta E il Nexus Ha prima la fase Diciamo Quella Figa E poi La fase Difensiva Dove sta fermo Sul posto Perché cammina Tecnicamente Non è una Specie di bestia Quando è in fase Difensiva Sta lì Fermo E può essere Attivato E colpito Solo se entri Sostanzialmente Nella sua Cosiddetta Fontana Esattamente Come succede Già Con le torri E con altre cose Tipo appunto Quel colosso Che abbiamo appena buttato giù Qui si Ranna veloci Questa lane E la facciamo Tutta tutta Siamo praticamente In base nemica Questa è una sorta di Cazzo E niente ragazzi Mi hanno fatto La cosiddetta Gangbang Erano in quattro E dai Ci sta Ah mentre siete morti Potete ovviamente Anche spettare I vostri alleati Per capire dov'è Che sta succedendo Roba E cosa sta succedendo C'è attenzione C'è un fight Qui Niente ragazzi Questa partita Mi sa che È bella che è persa Ci sono entrati Proprio in casa Proprio Ce li ho qui Seduti Di fianco a me Che mi stanno A dar fastidio Anche mentre muovo i tasti Allora eccolo qua Il friendly patron È questo qua Praticamente Sta sto Sta cosa Di Sta sorta Di 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 Quando lo ammazzeranno Lui si ritirerà All'interno del nocciolo E una volta all'interno del nocciolo O come lo vogliamo chiamare Insomma Ecco Infatti adesso si sta ritirando Eccolo qua Adesso si metterà qui Nel Poso a cerchio E potrà essere attaccato Solo Se ti trovi Lì Ma è Insomma È chiaro che È proprio lì Dove si trovano i nemici Perché Ci stanno entrati Ovunque Infatti possono attaccare Perché sono Qui Lo ammazzo Lo ammazzo Lo ammazzo Lo ammazzo Lo ammazzo Una kill me la sono fatta Dai Almeno chiudo sto video con sta kill Questa ha ultato Ed è pericolosissima Perché la sua ulti Se siete un minimo Saputi Ecco Di Di Overwatch È l'equivalente Dell'ultimate Di Reaper E la mappa ragazzi È sempre questa Non è che ce ne so due Insomma Per adesso c'è solo questa Non ci sono altre mappe Ah non c'è un recall Ovviamente ragazzi Quindi non potete Ritornare alla base Velocemente con un tasto Dovete Fare come me Andare a piedi E E Sperare di non morire Nel viaggio Perché magari incontrate Qualche nemico Che È molto più forte di voi E non avete visione Ovviamente Ci vorrebbe solo un pelo Di pulizia in più Nell'HOD Ma Vi dico Già così non è proprio Mali malissimo Ed è perfetto C'è Un gioco in Irlande Così non l'ho mai visto Così ben fatto Così ottimizzato Mai visto E dunque ragazzi Questo è Deadlock Non so se riusciremo A farci un altro video Perché esattamente Come LOL Si tratta di un MOBA E quindi Non è proprio Il genere di gioco Su cui mi piace fare i video Anche perché non sono esperto Quindi Mettiamola così Vi piace Non vi piace Siete interessati Ci avete giocato Non ci avete giocato Non riuscite a giocarci Non trovate qualcuno Con cui giocare Scrivetemelo nei commenti Scrivetemi Tutto nei commenti Personalmente Voto personale Un 6 di 10 Per adesso è Molto acerbo Si può fare Molto di più Ma C'è Il gioco C'è Ci sono già i eroi Ci sono già le abilità C'è già un equilibrio Abbastanza giusto Se non sei una capra Come me A giocare E poi ragazzi Il design A me piace tantissimo Questa specie di Come dire Come definirlo Steampunk Retro futuristico Con un accenno Al gotico Bello 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 Mi ricorda Dishonored Non so Ve la butto lì Mi ricorda molto Dishonored Da me Per oggi è tutto Io sono Raffaele Questa è la Stay Nerd Date un'occhiata Ai link in descrizione Se volete sopportare il canale Ci sono lì Tutte le varie cose Che potete fare Per darci una mano Nella nostra Creazione di contenuti E ci vediamo Nel prossimo video